La piattaforma Matera Basilicata Events è una versione aggiornata della piattaforma di eventi utilizzata già in fase di candidatura. Quella online in questi giorni all'indirizzo www.materaevents.it è una versione migliorata sia per funzionalità che per tecnologia. Infatti, oltre ad essere un calendario di eventi, la piattaforma ha anche la possibilità di inserire una propria scheda organizzatore consultabile online che diventa un vero e proprio curriculum digitale per l'organizzazione stessa. La piattaforma quindi ha delle funzionalità avanzate sia per quanto riguarda i risultati di ricerca, perché sarà possibile ricercare gli eventi per luogo, per raggio chilometrico, per tipologia di evento, ma anche per tipo di pubblico al quale l'evento è consigliato o riferito. Ha funzionalità complesse e avanzate di promozione, sarà possibile infatti condividere l'evento direttamente sui principali social network per promuoverlo maggiormente e anche di visualizzazione dei risultati di ricerca. La piattaforma infatti è in doppia lingua, italiano e inglese. Gli organizzatori che inseriranno le informazioni del proprio evento anche in lingua inglese vedranno salire nei risultati di ricerca in cima all'elenco il proprio risultato, le proprie informazioni. Anche la completezza e la precisione con cui verranno inserite le informazioni dagli operatori darà delle primarità sui risultati. La piattaforma è completamente in open data, questo vuol dire che tutti i dati e le informazioni saranno riutilizzabili per qualsiasi altro tipo di applicazione. I dati verranno resi pubblici e disponibili su una piattaforma certificata Open Matera 2019. Il dataset degli eventi sarà il primo di una serie di dataset che Matera 2019 metterà a disposizione della comunità. La piattaforma quindi ha le potenzialità per diventare uno strumento completo sia al servizio degli operatori culturali del territorio per promozione e per la programmazione degli eventi, ma è anche un strumento completo per la comunità, sia i cittadini che i cittadini temporanei, i turisti, che potranno avere una panoramica completa dell'offerta culturale del nostro territorio.